Per ora preferisco un po' l'altro modo, comunque buonasera amici del Bello e Cattivo Tempo, Teatro San Genesio, siamo qui ormai ad un appuntamento fisso, è in salotto di casa, e Peter Parker, no Peter Parker no, quello è Spider-Man, ok, allora chi ha letto Connocio il Duomo, scritta da? Michael Parker, e va bene, uguale, questo non si arrampica sui muri, una commedia scritta proprio su misura per Simone, Emilia, che ci dici di questa commedia? Come mai è scritta su misura per lui? Chi ha letto con il Maggiordone? È scritta su di lui perché a me si diverte nelle commedia brillanti, quindi questo è un Maggiordone un po' sui geni, un po' polpone, diciamo, quindi a lui piacciono un po' i manintesi, le bugie, le situazioni di triangoli amorosi, scambi di persona, porte in faccia, c'è un po' di tutto. Dal punto di vista artistico, perché la porta in faccia poi la ritrovi a casa, in realtà è che mi vede più come Maggiordomo, che non ho ancora attaccato però, come vedi, sono tutti quanti pronti per la scena, io ancora non sono indivisa da Maggiordomo, il mio torno comincia alle nove. Ti vuoi difendere? No, 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 sono assolutamente d'accordo con lei, questa è la classica commedia per me, dove c'è da saltare da una parte all'altra per riuscire a nascondere tutte le magagnie che questo Maggiordomo proverà all'organizzare. Emilia, presenta un po' tutti quanti. Allora, nel Maggiordomo, ovviamente, Simone Giulietti. Poi abbiamo, partendo da lì, Laura Facini, che interpreterà tre donne, quindi si dovrà cambiare e ricambiare dietro le quinte interpretando queste tre donne che entreranno in qualche maniera all'interno delle vicende e della vita appunto di Clickton, il nostro Maggiordomo. E tu non ridere, no, no, no. Poi abbiamo Claudio Carnevali, che è un detective molto imbranato, un detective un po' particolare e sarà lui soprattutto a ricevere le porte in faccia durante appunto lo spettacolo. Poi abbiamo Fabio Mascaro, che è un avvocato, l'avvocato c'è sempre. Leggermente necito. Sì, un po' vicido e cercherà di mettere le mani su un'eredità in qualche maniera, cercare di arraffare anche lui qualcosa. E poi abbiamo il cameriere Andy, che è il cameriere un po' matusalemme della commedia, affezionatissimo ad un ratto che gira all'interno di questa tenuta e quindi spaventerà un po' le ragazze con questo ratto. Poi abbiamo Emma Denola, eccola lì, che interpreta, diciamo, Constance, la figlia di questo multimilionario, che ha lasciato in eredità parte dei beni alla figlia, ma parte dei beni a queste tre signorine interpretate dalla russa alla giro. E poi abbiamo Ambra Lucchetti, che interpreterà questa Susi, un'attrice, ingaggiata da Clifton, per aiutarlo in qualche maniera a liberarsi di queste tre donne. A liberarsi? A liberarsi. Perché lui si vuole liberare di queste tre donne. Lui in realtà si vuole... Chiamo una donna per liberarmi da altre donne. È un circolo vizioso dal quale non riesco mai a uscire. Quanto si fa! Fai! Quindi va bene, allora, risate e garantite. Assolutamente. Simone si divertirà tantissimo, sicuro, ma anche voi, eh. Mi raccomando, quindi appuntamento da qualcosa, parli dei battuti quanti video. Allora, appuntamento da questa sera, martedì 22, al Teatro San Genesio, fino a domenica 27, vi ricordo, dal 22 al 26, cioè da martedì a sabato alle ore 21, la domenica alle ore 17 e 30. Via, po' d'ora, numero uno. E vai, ragazzi. Attaccato alla sede Rai di Viale Mazzini, non vi potete sbagliare. Chi ha letto col maggior tomo? Ciao! 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 Ciao!